Musica Bella a tutti ragazzi Qua è Ronin E siamo qui oggi con un nuovo video Su FIFA 14 Sui mondiali Ragazzi siamo alla finale Abbiamo vinto gli ottavi 6 a 4 I quarti 7 a 1 La semifinale 6 a 0 E adesso ci andremo a giocare la finale Tutti insieme Mamma mia Questa qui sarà la nostra squadra Giocheremo con questa qui Benzema, David Silva, Charles, De Rossi Gozze, Ozil Réveillet, Barzagli, Ammels Desciglio e Courtois Mamma mia ragazzi Che partitozza Che partitozza Tempiamo a vincere questo mondiale Dai allo stadio del Maracanà Ragazzi comunque Gesnavas Gesnavas Noooo Gol Al quinto minuto Subito il gol di Gesnavas Porca vacca schifosa Pallino avanti Presciarro Il pallonetto Deviato Era fallo Nooo E vabbè però dai Eh Gozze Gozze Miracolo Ma chi è Palla dentro Benzema 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 Nooo Benzema cosa si è mangiato Questa era goal Calcio d'angolo Il palla per De Rossi De Rossi 1 a 1 E dai E così Queste sono le statistiche del primo tempo ragazzi Mamma mia 10 tiri Lui 3 Se importa Lui 2 1 a 1 53 47 Possesso palla Oh Palla dentro Per David Silva Grandissimo passaggio David Silva Mamma mia David Silva David Silva C'è Gozze David Silva La botta Ancora corner Osil Palla dentro Ammels Gozze Che gran goal Mario Gozze 2 a 1 Al settantaquattresimo Che botta Palla dentro Per Gozze 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 Palletto Gozze 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 3 a 1 3 a 1 Fa vincere il mondiale alla Germania E lo fa vincere anche a noi Mario Gozze Mamma mia Curto a cosa para Curto a para Anche il portiere sopra Anche il portiere sopra Io ci ho paura Anche il portiere sopra Io ci ho paura Anche il portiere sopra Io ci ho paura Mamma mia Non c'è nessuno sopra Non c'è il portiere Non c'è il portiere Benzema Benzema di testa la dà Per Gozze 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 Al novantesimo Chiude la partita 4 a 1 4 a 1 Ci fa alzare la coppa Gozze Ci fa alzare la coppa Grandissimo Benzema Anche Ancora corner Al novantesimo Palla per Hammels Il portiere la butta avanti Si aspetta solo il fischio dell'arbitro Si aspetta solo il fischio Si aspetta solo il fischio Palla indietro Per Curto a Va al rinvio lungo Fischia Ed è finita È finita È finita Ci portiamo la coppa a casa Campieri del mondo Campieri del mondo Campieri del mondo È vinto i mondiali FIFA 2014 30.000 crediti Più 3 pacchetti E taglia ragazzi Migliori in campo Gozze Con 3 gol Taglia così Guardate le statistiche 19 tiri Lui 5 15 in porta E lui 3 Mamma mia Ragazzi Per questo video è tutto Nel prossimo video faremo il pack opening Dei mondiali Mettete il mi piace per questo Per questa grandissima partita Per questa finale Mamma mia Gozze Ci abbiamo 6 pacchetti Più 36.000 ragazzi Super pack opening Nel prossimo episodio Mettete tanti like E ci si sente Al prossimo video Bella